Monte Grappa versa in gravissime condizioni un ragazzo di 18 anni che ieri pomeriggio è rimasto ferito cadendo dalla moto mentre percorreva la strada che da Monte Roncon porta al forcelletto. Sul posto l'ambulanza del 118 di Feltre, ma vista la gravità della situazione in cui versava il giovane è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso, che l'ha trasportato all'ospedale di Treviso con un serio trauma toracico. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi.